Tanto io vedo dalla fotocamera... Agatha presenta... Il libro di Regina Albertina. Siamo... In un libro. Ora comincia il libro. E guardate. Siamo in un libro. Grazie! Dina! Sì, Regina? Qualcuno ci sta guardando? È divertente, sappilo. Perché poi dice... Sì, qualcuno ci sta guardando. Chi ci sta guardando? Un mostro! No, è... Una bambina! Una bambina ci sta leggendo! Ci sta leggendo? E come? Legge le parole scritte nelle nuvolette. Siamo in un libro! Siamo in un libro! Siamo in un libro! Troppo forte! Siamo in un libro! Siamo in un libro! Ci stanno leggendo! Ci stanno leggendo! Oh! Senti che idea! Ora faccio dire una parola alla bambina. Fai dire una parola alla bambina? Eh sì! Se la bambina legge a voce alta... Che bella idea! Che idea buffa! Senti! Banana! Hai sentito? La bambina ha detto... Banana! La bambina l'ha detto di nuovo! Banana! Banana! Che buffo! Vuoi provare tu? Prima che il libro finisca? Finisce! Il libro finisce! Ma! Ma! Sì! I libri finiscono! Quando finisce il libro? Ora guardo... A pagina 57! A pagina 57! Siamo già a pagina 46! Oh no!